Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. La nascita di Silvia, che sembrava l'inizio di un percorso sereno, è stata segnata da una diagnosi inaspettata, una malformazione al cuore, scoperta all'ottavo mese di gravidanza. Sonia, ancora giovane, è stata costretta a confrontarsi con una realtà molto dura. La sua bambina avrebbe avuto bisogno di un'operazione delicata appena nata. Questo momento, che avrebbe spaventato chiunque, ha invece rivelato la determinazione di Sonia e la sua volontà di fare tutto il possibile per sua figlia. L'operazione al cuore è stata un passaggio cruciale, uno spartiacque nella vita di Sonia e della sua famiglia. La madre ricorda con commozione il momento in cui ha potuto conoscere la vera Silvia, solo per pochi minuti prima dell'intervento, quando la piccola sembrava ancora libera da qualunque segno di difficoltà. Al suo ritorno, però, qualcosa era cambiato, segnando profondamente la bambina e l'intera famiglia. Sonia ha descritto quei primi giorni dopo l'intervento come una fase di grande incertezza, vissuta con paura e speranza. Silvia, infatti, ha dovuto trascorrere i primi mesi di vita in terapia intensiva. sotto stretto controllo medico. Il racconto della Bruganelli mette in evidenza il coraggio che la figlia ha dimostrato fin da piccola, affrontando sfide che nessun bambino dovrebbe vivere così presto. Anche dopo il rientro a casa, Silvia ha continuato a dimostrare una forza incredibile, un percorso di crescita che ha unito ancora di più la famiglia. Gli anni sono passati, ma quel giorno rimane uno dei ricordi più intensi e commoventi della sua vita.